Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Pizzo Calabro, in Calabria, in compagnia di Alessandro Massari, radicali italiani, qui in Calabria per la fondazione di una nuova associazione radicale, per dare rilancio al territorio, ma soprattutto ai radicali qui in Calabria. Alessandro, l'importanza di questa iniziativa è soprattutto un'idea di quello che è i radicali in Italia in questo momento? L'importanza di questa iniziativa è massima, perché io credo che dai lavori dell'associazione sia emersa una voglia di azione politica, che si può declinare in molti modi e che è stata rappresentata anche dalla partecipazione ricchissima ai lavori e al numero degli iscritti. Credo che avere un'associazione che parte con oltre 20 iscritti sia per noi radicali un successo. Radicali italiani sta conoscendo un periodo di crisi, di crisi di crescita, che ha messo nero su bianco nel congresso di novembre alcuni progetti ambiziosi che si stanno realizzando e questa associazione, la fondazione, ne è proprio un esempio. Senti, io volevo chiederti una cosa. Si è fatto ovviamente il nome di Marco Pannella. Marco Pannella è stato ed è una figura molto importante non solo per i radicali ma per la politica italiana. Quanto ancora può dare la figura di Marco Pannella in Italia per rilanciare quello che sono le battaglie radicali, ma soprattutto le battaglie di laicità, democrazia e giustizia? Un'enorme importanza, perché Marco Pannella non solo ha avuto delle idee ed è stato capace di avere delle visioni, ma ci ha insegnato un metodo, il metodo dei fiumi carsici, quello di prendere il pensiero antico e riattualizzarlo. Se noi abbiamo ancora speranza di avere in Italia uno stato di diritto è perché non si è abbandonati al democraticismo che il patto costituente aveva completamente abbandonato con la costituzione dell'articolo 7, quando i patti lateranensi furono portati in Costituzione. C'è stato un partito glorioso, il partito ad azione che si batte contro questo pericolo, fu poi sgretolato dalla potenza della democrazia cristiana e del partito comunista. Grazie a Marco Pannella che seppe innovare, che seppe riprendere i discorsi di Gobetti, i discorsi di Calamandrei, i discorsi di Ernesto Rossi, ebbene noi abbiamo conosciuto un tipo di liberalismo diverso, antico nel rispetto delle istituzioni ma nuovo nelle forme con cui si interfacciava con la cittadinanza. Se noi sapremo ancora oggi essere portatori di una sorta di reagione laica della libertà basata sul rispetto della legge, una legge che contenga diritto, sapendo spiegare, sapendo dialogare, sapendo ascoltare i cittadini, noi avremo ancora una funzione futura. Se noi non sapremo più fare questo, sarà esaurita la falda di quel fiume che non sarà più carsico, non scorrerà più né sottoterra, né come ruscello ruscellerà appunto in superficie e quindi sarà naturale che non ci saremo più. Due sono i motivi per cui non ci saremo più. O perché avevamo realizzato gli obiettivi, come ha sempre detto Marco, o perché non saremo più essere capaci di entrare in sintonia con le esigenze del popolo. Io spero che sia per la prima soluzione la nostra eventuale... Sì, io poi tra l'altro volevo chiederti una cosa. Quando sei stato, diciamo, avvicinato da un radicale per essere radicale, perché questa è una domanda che ho fatto a tante persone radicali, tu sei un radicale storico per me perché ti ho conosciuto ai vari congressi, quindi tu quando hai scoperto di essere radicale? Quando a un certo punto, girando la manopola della radio, ho ascoltato Radio Radicale. Io non riuscivo a... ero giovane, ero molto... ero piccolo, io mi interessavo di politica da piccolo, avevo un problema, non riuscivo a capire la differenza tra socialisti, socialdemocratici e repubblicani, con i liberali. Era una domanda che mi facevo bambinetto a 14 anni e tramite Radio Radicale, ascoltando Marco Pannella, capì che c'erano veramente dei legami che mi apparivano in controluce, ma che non riuscivo a capire. Grazie all'opera di divulgazione vera che ha fatto Marco Pannella, che non è mai stato un uomo che ha pensato solo all'obiettivo specifico, pur avendo sempre obiettivi specifici, ma costruire un terreno fatto di trame e di ordito che dal passato potesse far trasportare nel futuro delle idee antiche, inverandole nel presente. Sono diventato Radicale grazie a Radio Radicale. Questa è veramente una conclusione degna, anche perché Radio Radicale ha seguito l'evento come sempre. Da Radio Radicale abbiamo potuto ascoltare la testimonianza di Eleonora Cretella, alla quale è dedicata questa nascente associazione, quindi ti ringraziamo per il tuo contributo, porta il nostro saluto a Radicali italiani e soprattutto un augurio a questa associazione che darà il lustro alla Calabria. Grazie Alessandro. Grazie a te, sono molto contento di essere venuto qui all'associazione Calabria Radicale e mi iscriverò, come ogni anno, a Liberi TV, perché è una libera TV, davvero. Grazie. Grazie a te, sono molto contento di essere venuto.